allora che cosa vedi veramente con questa calza un calzo senti ma perché siamo in questa galleria d'arte non possiamo stare belli tranquilli a casa noi siamo qua perché tu sei senza lavoro così ci rubiamo un'opera ci facciamo un po' di soldi e finalmente ci spaziamo io mi chissò ne ciccato da vaglio che cosa no niente senti ma tu sei sicura 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 che siamo in una galleria d'arte vero ma perché scusa dove siamo pare che siamo muso delle cere tale che sono baisamate fai piano allora da questo momento dobbiamo sceglierci dei nomi in codice per non farci conoscere allora facciamo che tu sei il famosissimo diabolic e invece io sono l'intelligentissima eva kante che originalità amore mio perché eva kante è un nome che mi sta benissimo in effetti si eva kante fai piano la vedi quella quella è una riproduzione fedelissima della sfinge la sfinge originale la sfinge d'egitto è un monumento importantissimo pensa che la sfinge è alta 20 metri ed è lunga 73 metri e quanta le cottacce vuose fai piano la vedi questa porta qua dietro si nasconde l'opera che dobbiamo rubare hai portato il grimaldello assolutamente no perché chi manco sa ci non so che sei un cretino adesso come facciamo a rubare l'opera ci penso io con la mia forza brutta scassi da questa porta oddio 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 è arrivata la polizia come sicuramente la gente la fogna come fai a sapere che si chiama la fogna e quando già si arriva una puzza e muore